Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Nevica a Bormio nelle prime ore della mattinata di oggi ed è pioggia sulla strada provinciale numero 27, la cosiddetta pista bassa in comune di Val di Sotto, dove al chilometro 25 nei pressi della località Aquilone, alle ore 6 un masso di piccole dimensioni, pari a circa 2 metri cubi, è sceso a valle ricavandosi una pista fra gli alberi e rovinando sull'asfalto, danneggiato per fortuna solo in piccola parte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici della provincia di Sondrio, i carabinieri della stazione di Bormio, i vigili del fuoco di Capitania. Nessuna difficoltà a rimuovere il corpo roccioso, che ha interrotto solo per due ore il traffico di per sé non così frequente sulla pista in questione, solitamente utilizzata come percorso alternativo alle gallerie della strada della rinascita e dunque poco transitata. La provinciale 27 di Val di Sotto, le ore 8.30, è tornata percorribile e il buco nell'asfalto è stato prontamente riempito. Allarme rientrato subito, dunque. La situazione meteorologica in Alta Valle non desta preoccupazioni, ma i collegamenti sono alquanto pregiudicati. Chiuso il passo del Gavia su entrambi i versanti, aperto il passo del Foscanio, dove ieri notte sono caduti ben 60 centimetri di neve rispetto ai 25 in Livigno Paese, e il suo collega, quello della Forcola, dove la carreggiata è ancora innevata ma transitabile. Il passo dello Stelvio rimane aperto sul versante valtellinese. Ieri sera, in tarda serata, era stato chiuso a causa del vento e delle forti precipitazioni. Chiuso, invece, sul lato dell'Alto Adige e dell'Umbrail. Dal 7 al 9 novembre è previsto un ulteriore peggioramento, che porterà neve anche a bassa quota. Il cerchio attorno all'Alta Valle si stringe sempre di più.